Perché appunto questo aspetto qui loro hanno seguito fin dalle prime fasi, fin dalla prima ora proprio la nascita del network, sono appunto referenti di questo Life Cersemon che è stato citato, che forse loro descriveranno ancora meglio e sono appunto parte di questo mondo della ricerca dell'università che deve essere per definizione e il motore del network della biodiversità e delle sue successive evoluzioni, a partire dal contributo di dati che deve essere fatto crescere e poi negli utilizzi, nei possibili, quindi appunto una prospettiva proprio di sviluppo basata sulle esigenze di oggi del mondo della ricerca. E' buttato lì praticamente una miriade di potenziali argomenti, quindi guarda io in realtà volevo puntualizzare alcuni aspetti che questa mattina mi hanno particolarmente interessato, questa mattina gli interventi precedenti mi hanno particolarmente interessato. L'aspetto principale secondo me è che da quando abbiamo contribuito a sviluppare il network, parliamo del progetto Sistema Ambiente 2010, c'eravamo io, Fabio, c'era Valerio e un sacco di altre persone che vedo qui, Carlo tra l'altro. L'idea è sempre stata di avere un qualcosa che fosse un centro di aggregazione a livello nazionale di informazioni, cioè quindi che prendesse i dati da dove c'erano, dal basso, e che però non si chiudesse in sé, ma che li poi aprisse a quello che è la comunità scientifica mondiale. Perché ricordiamoci, qua due slide, adesso vediamo se riesco a far funzionare, ricordiamoci che non siamo soli ovviamente nell'universo, non siamo soli nel mondo a occuparci di dati di biodiversità, il GBI che si è già stato citato più volte, e volevo appunto parlare di questo network, questo importante network del rapporto che il network nazionale di biodiversità secondo me deve avere con questi network. Il BioCase è il sistema che abbiamo utilizzato dall'inizio per sviluppare il network, che adesso viene rielaborato, vedo con estremo successo, sono molto felice degli sviluppi del network, perché è come vedere un bambino quando lo vedi nascere e poi lo vedi crescere finalmente, ed è una cosa che per me, a meno me, riempie sinceramente d'orgoglio, perché devo fare i complimenti, i colleghi di Ispa hanno fatto un lavoro eccezionale nello sviluppare ulteriormente la piattaforma. Il GBI, il GBI è questo, il GBI, vedete le nazioni in blu e in verde sono quelle che partecipano attivamente in verde e quelle che sono parte del GBI come membri osservatori. Guardiamo i numeri, un miliardo di record, un miliardo di dati primari di biodiversità, un miliardo. Un miliardo e mezzo. Un miliardo ufficiale sul sito loro, sul sito loro un miliardo, comunque di cui gran parte tra l'altro vengono delle nazioni che li ospita, comunque numeri enormi. La cosa però che a me colpisce sempre è questa, l'oiato che c'è tra il miliardo di record che loro hanno e i 150 milioni di record di dati derivanti da collezioni di storia naturale. Non sto qua, potrei parlare per mezz'ora, un'ora circa, della differenza tra quello che è un'osservazione e un dato di una collezione, la falsificabilità del dato, l'importanza delle collezioni di storia naturale è enorme, anche perché ci forniscono proprio quella dimensione temporale di cui parlava Christian stamattina, cioè la serie storica. Le collezioni di storia naturale iniziano 250-300 anni fa. Sono dati che ci permettono di capire come la biodiversità è cambiata nel mondo. Quindi questo è già un dato interessante. Questa è la mappa dell'Europa, del GBI fino a Europa. Vedete come l'Italia in questo momento è ancora assente, ma so che si sta lavorando attivamente perché questo gap si venga colmato il prima possibile. Proprio recentemente ci sono stati i primi contatti con il board del GBIF. Tuttavia l'Italia è assente, ma non completamente assente, perché alcuni provider italiani, che poi sono anche provider, almeno non so se tutti, ma alcuni del netto nazionale per la diversità, partecipano indipendentemente. La scelta che facciamo all'inizio di utilizzare il protocollo Biocase per condividere i dati nel network appunto permette di condividere i dati verso più direzioni. Nella fattispecie noi, almeno per quanto riguarda ad esempio il mio istituto, noi condividiamo i dati nel network, siamo dati provider nel network e anche nel GBIF. Quindi gli italiani ci sono con 285.000, 280.000 record, non sono tantissimi, però è una partecipazione importante. Chiaramente questi 280.000 primary board diversity data, dati primari di biodiversità, occorrenze georiferite, non sono tutto quello che abbiamo in Italia. In Italia c'è molta roba, ci sono molti dati. Io penso solo alle collezioni di storia naturale, che sono poi per me la fonte più attendibile, più solida di informazioni, di dati primari di biodiversità. La associazione nazionale di musei scientifici in particolare, con il progetto Colmap, che Vincenzo Romero qui presente ha coordinato, ha censito, metadattato le collezioni, ha tentato di iniziare una metadattazione delle collezioni di storia naturale dei musei italiani. In Italia abbiamo 400-500 musei di storia naturale, dai più piccoli ai più grandi numeri che nessun altro paese ha. Con questa frammentazione non c'è nessun altro paese. Abbiamo provato a cercare di capire quanti dati, che dati hanno questi musei. Al Sarve per il momento hanno risposto 84 musei, che sono però i principali, alcuni tra i più grossi. E guardate i numeri. 84 musei italiani hanno collezioni che contengono all'incirca 25 milioni di campioni. Se li proiettiamo sui 400 musei che probabilmente ci sono in Italia, potremmo arrivare comodamente a oltre 50 milioni di campioni, di record, di dati che potremmo confluire nel netto della biodiversità, fornendo finalmente quelle serie storiche su cui possiamo fare vera decision making e anche che possono essere utili per poi confrontare quei dati di citizen science, che sono dati attuali, vengono da ieri, iniziano a raccogliere i dati. Il progetto si è smonco, coordinato, è iniziato nel 2014 e raccoglie, continua a raccogliere, nonostante sia concluso, oltre 500 dati al mese, 500 informazioni al mese, tutte validate scientificamente da esperti. Quindi i dati arrivano, però sono dati odierni. A noi serve sapere cosa c'è stato e le collezioni esternotrali sono cosa c'è stato. L'unico problema è che bisogna andare a prendere questi dati. Ho sentito parlare di molte figure professionali, data manager, Giulia ha citato, e il data administrator, ma anche il data digitalizator, passatemi il termine, cioè quello che effettivamente ha le competenze anche scientifiche, perché digitalizzare dei dati di storia naturale non è facile. Chi gestisce collezioni sa bene che ogni singolo campione può diventare un vero incubo a volte nella digitalizzazione e sono quelli però i dati che a noi servono di più. E' che il network, che potrebbero fare crescere secondo me il network in un modo a dir poco esponenziale e diventare veramente lo strumento che tutti vorremmo che diventasse. Poi certo ci sono tanti altri strumenti che potrebbero essere accoppiati al network. Penso ad esempio, Andrea parlava di strumenti per i cittadini per coinvolgerli, chiave di identificazione digitali. Ci stiamo lavorando da tanti di quegli anni a Trieste, da 15 anni ormai. Sono strumenti fondamentali. App, cataloghi distributivi. Un sacco di informazioni che ci sono. E il network ha le potenzialità finalmente per diventare l'aggregatore di tutte queste informazioni. Grazie Stefano. Anche noi ci crediamo molto. Devo dire che adesso penso che abbiamo in mano veramente uno strumento molto potente e molto devoto a diventare davvero un punto di riferimento nazionale per tutti questi sviluppi e appunto invitiamo tutti a essere partecipi di questa nuova evoluzione del network. Grazie.